Buongiorno amici del Resto del Carlino.it. C'è il leone del gol Marco Divaio a condurre il Bologna verso la scadenza fondamentale della sua stagione, la partita con Lecce in programma domenica alle 15 al Dallara. Si prepara uno stadio tutto esaurito, il Resto del Carlino distribuirà a tutti i tifosi una bandierina con i colori rosso-blu come già fece nella fortunata occasione dell'anno scorso quando il Bologna fu promosso in Serie A. Speriamo che tutto questo sia di buon auspicio. Dicevamo di Marco Divaio che è arrivato alla soglia dei 100 gol, sono 99 in carriera, il numero 100 lo potrebbe segnare proprio a Lecce quanto lui si augura, questo grande giocatore piovuto qui a Bologna per rinascere, per ritrovare se stesso, è riuscito a compiere l'impresa. Adesso comanda la classifica dei canonieri con 22 gol, ha eguagliato Codino Baggio che nel 98 ottenne lo stesso numero di segnature e punta a rimanere il leader e un po' la bandiera di questo Bologna anche nel futuro. Proprio per questo vorrebbe che i rosso-blu rimanessero in Serie A grazie anche ai suoi gol. Intanto Papadopolo prepara la squadra per la partita con Lecce, lo fa in una clausura totale, nel silenzio più assoluto, vuole nascondere agli occhi del Lecce quelli che sono i suoi piani tattici e non è stato possibile per i tifosi seguire la squadra. Lo sarà soltanto oggi nell'amichevole a porte aperte che verrà disputata a Casteldebole. È probabile però che anche qui Papadopolo nasconda le carte, anche perché le soluzioni a sua disposizione sono davvero tante per questa partita. Ci sono dei recuperi importanti e adesso per le maglie di centrocampo, che sono sostanzialmente tre per quanto riguarda i ruoli dei centrali, ci sono cinque uomini a disposizione, cioè Mingazzini, Volpi, Amoroso, Mudingai e Mutarelli. Quindi sull'esterno di sinistra dovrebbe giocare Valiani, sull'esterno destro potrebbe giocare Marchini, a meno che Mutarelli, per esempio, come già è successo in un'altra occasione, quando la squadra era schierata secondo un 4-4-2, non venga a sua volta impiegato come esterno di destra con un ruolo più di controllo degli avversari che di rilancio. Di certo Papadopolo si trova in mano tante carte da giocare e la possibilità di allestire una formazione molto competitiva per la gara con il Lecce. C'è questo che la gente gli chiede, preparandosi a quella che sarà sicuramente, a prescindere dal risultato, una grande festa del popolo rosso-blu.